Traffico è bloccato nel canale di Suez per il terzo giorno. Una grande nave da carico si è incagliata impedendo il passaggio alle altre imbarcazioni che trasportano merci. Ritardi e ripercussioni economiche notevoli per uno dei nodi commerciali più importanti del mondo. Vediamo. Potrebbero volerci giorni per sbloccare il canale di Suez e riaprire il passaggio tra il Mar Rosso e il Mediterraneo alle decine di navi, cariche di petrolio, cereali, componenti per auto e altre tantissime merci. La Ever Given, un gigante lungo come quattro campi di calcio, una delle porta container più grandi al mondo, è ancora lì incagliata nella sabbia a sbarrare la strada. Il colosso con bandiera panamense ma di proprietà giapponese partito dalla Cina e diretto in Olanda si è messo di traverso martedì, forse per una tempesta di sabbia che ha ridotto la visibilità e finora rimorchiatori e ruspe non sono riusciti a liberarla lasciando bloccata la porta attraverso la quale transita è il 12% del commercio mondiale e circa il 40% delle importazioni ed esportazioni marittime italiane. Oltre 100 navi aspettano e qualche armatore sta già pensando di virare di 180 gradi e circunnavigare l'Africa, un'alternativa che allungherebbe i tempi per l'approdo nel vecchio continente con ritardi nelle consegne e ripercussioni economiche non indifferenti. Per ogni giorno di blocco restano ferme merci per oltre 8 miliardi di euro e lo stallo ha contribuito a infiammare il prezzo del petrolio. Il 7% di greggio e gas liquido che viaggia per nave dal Golfo Persico all'Europa e dalla Russia alla Cina passa da Suez. Per lo Stato egiziano che controlla i pedaggi dalla crisi internazionale del 1956 è una fonte finanziaria importante. Con 5,6 miliardi di dollari di incassi il 2020 è stato il terzo anno più ricco della sua storia. Nonostante la pandemia non ci sono state interruzioni fino a quando la Ever Given, come una balena d'acciaio, si è spiaggiata. Simone Spina, Sky TG24 Stasera l'Italia sarà impegnata a Parma contro l'Italia.